Allora Fulvio, facciamo un po' un punto della situazione, soprattutto riguardo un pochino agli infortunati, come al solito ogni settimana dobbiamo farla conto. Ma, insomma, Moro penso che ce l'abbiamo, speriamo Padoin, vediamo... Dalla panchina o in campo? Diciamo a disposizione. Dobbiamo vedere se c'è, figuriamoci poi dalla panchina a giocare, insomma. Dobbiamo fare una valutazione certamente di massima oggi, poi vediamo un po', e di massima la dobbiamo fare anche domenica, per vedere l'apporto quale può essere, se va fino a un certo punto, se no, matematica non c'è, quindi verifichiamo prima se c'è, poi verifichiamo le condizioni che sicuramente non saranno ottimali, però speriamo che ci sia, perché comunque penso che Padoin sia determinato. L'autorezione di massima che hai cominciato a fare ieri nel test in famiglia, stai pensando a delle modifiche negli attori e anche nell'atteggiamento tattico, o si persegue nella medesima direzione, magari con un cambio nel morale della squadra? C'è comunque qualcosa che cambierà, quindi poi dipende dalla disponibilità, dipende dall'umore, penso che in questo momento qui quello che è l'umore della gente è anche l'umore dei giocatori, e quindi dobbiamo invertire questa deficienza caratteriale che si può invertire solamente nell'io e quindi ognuno di noi deve dare un apporto e pensare che si possa cambiare, solamente quello. La visita di qualche giorno fa dei tifosi, dei fedelissimi che sono venuti a trovarvi, fa essere sempre un po' meno io e un po' più noi? Per quanto riguarda i tifosi fa appartenere ancora di più all'io, nel senso che anche loro hanno dimostrato di essere noi, e noi che dobbiamo dare qualcosa in più per il rispetto che dobbiamo avere verso i tifosi, e quindi a noi poi il compito è di andare dentro, andare dentro vuol dire metterci la propria personalità, non nascondersi dietro l'uomo, non pensare che la palla scotti, e cercare nel limite del possibile di fare le cose più serenamente possibili. A proposito di questo, avremmo avuto modo di valutare magari a mente fredda se la paura del risultato a portata di mano è stata una componente di questo ultimo periodo? Il risultato ora è prioritario, quindi abbiamo purtroppo spostato il punto di focalizzazione dalla prestazione al risultato, quando sposti questo viene a mancare e la prestazione, è come le partite che tu giochi in due incontri, puoi fare sì la prestazione ma il risultato è primario, e molte volte quello che tu devi dare nel contesto di una squadra viene a mancare. Ecco Erza martedì nell'intervista diceva che bisognerebbe cercare di comportarci un po' nel senso di far capire subito agli avversari che sono al picco e farglielo pesare anche un pochino, cioè come dire, forse che ultimamente è mancato un po' questo, le squadre che vengono qua a volte risultano più cattive dal punto di vista fisico della lotta loro che non lo spezia, anche se poi l'impegno c'è, ci mancherebbe altro, però forse Erza ha ragione, far capire subito all'avversario che sei lo spezia e che giochiamo al picco. Eh ma queste sono qualità innate, tu non ti puoi dimostrare cattivo se non lo sei, anche l'avversario lo capisce, questa squadra se voi ve lo ricordate ha dimostrato in momenti non sospetti che aveva dei limiti caratteriali, perché quando le cose andavano male ci sono state grosse difficoltà perché la gente ha subito le aspettative più del dovuto, e quindi sotto quel profilo, pur avendo una squadra con elementi esperti, comunque questa difficoltà l'ha evidenziata. Però ha saputo cambiare marcia a un certo punto. Ha saputo cambiare marcia, abbiamo anche noi ora la possibilità di cambiare e di ritornare quelli che eravamo, non dico moltissimo tempo fa, 20 giorni fa. Ecco, arriva un avversario che abbiamo battuto nettamente, abbastanza nettamente all'andata, forse anche basandoci su questo mentalmente la squadra potrebbe essere più portata a pensare a un avversario alla portata, secondo te? Ma io penso una cosa, io penso che il problema maggiore siamo noi stessi e quindi dell'avversario... Sì appunto per il fatto che il problema è nostro magari mentalmente. Perciò, e dobbiamo pensare a noi, se noi pensiamo che c'è l'avversario, pensiamo che abbiamo paura dell'avversario, pensiamo a qualsiasi altra cosa dell'avversario, ma non siamo noi stessi, è quello che c'è di fronte, diventa un fenomeno o chissà cosa, perché comunque tu non stai con il figlio giusto, con le aspettative che tutti quanti ci aspettiamo. La partita con i crociati è veramente la parte più importante? Ma sono tutti importanti, compresa questa qui, è normale, lo diciamo da... No, no, io lo dico soltanto per il fatto che è vero che poi hai questi determinati scontri diretti, ma è anche vero per arrivare a la parte, senza andare troppo in là, la parte successiva, che diventa fondamentale... Ora, se noi diciamo che è una partita fondamentale questa partita qui, voglio dire che non abbiamo capito niente, no? Questa partita qui è fondamentale. Voglio dire, se noi diciamo che è fondamentale, vuol dire che ancora non sappiamo che è fondamentale, ma era fondamentale quella scorsa, quella prima, quella prima ancora e lo sarà anche... Andando avanti diventano sempre più importanti. Sono sempre importanti, perché comunque è normale, siamo a quattro partite dalla fine, è fondamentale, importante, come ve la voglio comettere, è un gradino da superare e quindi certamente dobbiamo far di tutto. Passami la battuta. Riuscire a fare un po' quello che stava facendo l'Inter in Serie A. Cioè? Cioè, insomma, ha dominato, noi non tutto il campionato evidentemente, però il giro di ritorno lo ha dominato nei punti conseguiti. Quindi si è vista poi rimontare in questo ultimo periodo esattamente come è successo all'Inter, adesso serve un colpo di coda in Serie A come in Serie A in seconda divisione. L'unica cosa che l'Inter ha avuto già dalla squadra ritorale e ora fa giocare in Coppa Italia, in Coppa dei Campioni e in campionato sempre la stessa squadra, ne cambia uno o due, però ce li ha. E' questo che il risultato porta. Cioè il fatto che una squadra come l'Inter non faccia il turnover, non lo fa perché poi di fatto cerca... Ma non lo fa perché non lo vuole fare. Non lo vuole fare, ma tu non lo fai il turnover perché il giocatore non ce l'hai, non posso fare un esempio con l'Inter, soprattutto solo per questo. Però certamente per quanto riguarda il cammino della squadra, è stato un... non dico così perché l'Inter è stato nettamente sopra, è arrivato mi sembra a sette punti, sopra la seconda e quindi sicuramente ha fatto molto, ma molto bene. Ma noi dobbiamo pensare, non siamo certamente l'Inter. Una battuta sui crociati comunque, che è una squadra di trasferti. Non lo so, non gioco contro i crociati, giochiamo contro noi stessi. Grazie. Grazie Fonio. Grazie per il titolo.